super juventini buongiorno ieri sera mentre mi facevo gli affaracci miei con mia moglie mi è arrivato un messaggio da uno di coloro che mi informano sui movimenti di mercato sapete che quest'anno la juventus vi dissi a giugno guardate che la juventus farà ea e forse un movimento in entrata e tre o quattro in uscita ma anche sul movimento in entrata non ne sono così certo perché mi dicono che quando si va a trattare mettono sul piatto della bilancia il bilancio cioè il fatto che non che ne è minga di pecunia nei sci piccioli gli dicono siciliano a giuntoli e giunto gli dice ma è una bucaiola non abbiamo neanche il coso per piangere da come si dice in calabrese scusate sono stato posseduto da alcune alcune forme dialettali no appunto stavo dicendo mi è arrivato questo messaggio che tra l'altro un ragazzo stamattina non so se la letta da qualche parte non ho la propria idea forse gliela letta qualcuno fatto sta che io ho detto vado voglio fare proprio questo video lo voglio proprio fare se voi vedete che nel titolo ci sono sia morata che kostic chi mi conosce dice cacchio chissà cosa dirà adesso max sapete che quando parlo di morata non non gliene perdono neanche una perché secondo me un giocatore che aveva un grande potenziale e che secondo me invece si è perso ma parliamo del perché primo morata era fantastico è il morata del 2015 quello che ha fatto anche gol in finale di champions league era un signor giocatore era un signor giocatore ci ha fatto andare lui in finale con il gol che ha fatto a madrid no vi ricordate in quel rimbazio perché lui giocava lì giocava in mezzo all'area andava spesso a infilarsi e la porta la vedeva poi il genio di rivorno ha deciso di allargarlo eh tanto per cambiare l'ha messo fuori ruolo e gli ha rovinato la carriera su questo non ci piove anche gli altri allenatori poi sono caduti nell'equivoco di farlo giocare largo anche perché andava a imbattersi in prime punte fortissime dove andava a giocare lui c'erano prime punte fortissime e quindi non poteva giocare prima punta o perlomeno seconda punta vicino alla prima quindi lo allargavano ma chiusa parentesi mi arriva questa notizia dove mi dicono occio max ovviamente non mi ha detto occio max lo dico io così per per fare anche un po lo scimmiotto eh il veneto no occio no occio dicono i veneti che ci potrebbe essere eh un last minute scambio eh costic morata oddio ho detto costic morata cioè la juve da costic all'atletico madrid perché pare che al ciò lo simeone piaccia e la juventus arriva morata vogliete sapere qual è la mia reazione la volete sapere siete curiosi di saperla ve la dico facciamo cinque minuti di silenzio no cinque secondi di silenzio cinque secondi ho mostrato le dita così capite che non sarà bloccato il video magari impazzito max impazzito magari se prendono morata al posto di costic dico magari perché morata che non è un ala che non è un ala perché per me morata non è un ala ma una seconda punta e potenzialmente potrebbe essere anche la prima punta in caso di abbisogna è molto più bravo a saltare l'uomo di costic è molto più bravo a crossare di costic è molto più bravo a fare gli assist di costic non ha vinto nessun cagata di premio perché sono tutte cagate le mvp i miglior giocatori di qui ma chi lo decide ma chi lo decide chi è il miglior giocatore ma chi lo decide ma hanno dato il pallone d'oro a cannavaro col mondiale che ha fatto buffon hanno dato il pallone a summer quando c'erano del piero e altri giocatori che erano mostruosi a summer hanno dato il pallone d'oro ma stiamo scherzando signori se vi attaccate a ste cagate a sti premi farlocchi allora il calcio non fa per voi è senza offesa non fa per voi il calcio va guardato il calcio va guardato in campo vanno visti i movimenti vanno visti i tiri i dribbling i take all come contrastano morata tutta la vita meglio di costic ecco questo sì che è uno scambio che io accetto perché se mi vai ad aggiungere morata al parterre d'eroac alla juventus con chiesa vlaovic e milic così puoi sacrificare tranquillamente ken dando via costic è perfetto anche perché costic te lo vanno tranquillamente 13 14 milioni morata viene a casa per 20 ci metti 7 milioni cash e te lo porti a casa morata in più mi va bene ma morata al posto di no capite morata al posto di o chiesa o vlaovic no morata in più oltre a chiesa vlaovic a milic ok magari via ken anche se può restare per me e via costic ma tutta la vita tutta la vita togliamoci quella pippa di giocatore che non vale un tubo perché l'ho detto lo ribadisco lo ripeto fino alla noia se fosse stato un grande giocatore a 29 anni il bayern di monaco non lo lasciava andare alla juve per 13 milioni ok a 29 anni nessuno se lo cagava l'ha preso la juve perché tutto sport ha fatto una campagna mediatica a suo favore con sta cagata del miglior giocatore dell'europa league poi tra l'altro europa league europa league che sinceramente non so se è ai livelli di che cos'è ai livelli l'europa league cioè di che cos'è ai livelli l'europa league ma stiamo scherzando ma che coppa è che vanno in finale la fiorentina il westham hanno prima la eintracht il feinor ma che cazzo di squadre sono ma stiamo scherzando ma queste qua sono squadre che non vedono la champions league neanche col binocolo e noi parliamo dei migliori giocatori dell'europa league te credo c'erano delle squadre scarsissime in quell'europa league quest'anno che c'erano delle squadre un po più forti c'era il barcellona c'era il manchester united c'era la seviglia c'era la juve non ha vinto come miglior giocatore dell'europa league ha fatto cagare scusate il francesismo ha fatto cagare quindi e non è colpa d'allegri qua è inutile perché adesso va bene qualsiasi cosa piove è colpa d'allegri ti hanno trovato in casi ladri è colpa d'allegri allegri è un allenatore mediocre mette i giocatori fuori ruolo ha delle idee balorde ma costice è scarso di suo costice è scarso di suo perché uno che ha fatto una stagione decente line track francoforte non è motivo valido per andarlo a prescare la juventus guardate che guarda che costice è la fotocoppia in tempore di krasic krasic fece una stagione stratosferica la stella rossa probabilmente all'epoca l'avranno nominato mvp di qualche cazzo di premio assurdo la juve l'ha preso il nuovo nedved e siamo a posto il nuovo nedved c'è visto anche questo il nuovo nedved sì quando nedved va al cesso è uguale quando si siedono sulla tazza tutti e tre sono uguali nedved krasic e appunto costice peccato che nedved era un giocatore della madonna fortissimo uno dei giocatori più forti che abbia mai avuto la juventus uno che aveva due balle così che non sbagliava praticamente mai una partita non so se lo sapete questo nedved non sbagliava quasi mai una partita segnava un fracco di golf faceva dei cross meravigliosi dei tiri stratosferici che sfondava la rete ed era uno che metteva il cuore dei ragazzi come giocatori non si discute quindi paragonare krasic e costic a nedved è una bestemmia a tutti gli effetti e dovrebbe chi fa questo chi fa questo deve essere scomunicato dal tifo juventino ci dovrebbe essere un papa bianco nero e dopo mi si taglia un papa bianco nero non mi parvero capito cosa ho detto bene quindi se dovesse mai last minute arrivare morata al posto di krasic io farò un video dove darò il benvenuto al varito morat moratito che farà un altro figlio perché ovviamente lui ogni volta che cambia squadra fa un figlio siccome ne ha già cinque se arriva la juve farà il sesto bene così buona giornata ci vediamo domani mattina tomorrow morning con good morning ovviamente alle 5 5 o'clock in the morning ciao